Nessuno dei leader di peso mancherà oggi alla direzione del PD, è un momento tanto delicato quanto importante per il Partito Democratico, scosso da una parte dalle tensioni per la partecipazione al governo di larghe intese e dall'altro da quelle per l'organizzazione del Congresso. Ci saranno quindi sia il Premier Enrico Letta che Matteo Renzi, ma saranno partecipazioni diverse. Come ha già fatto nell'incontro con i gruppi parlamentari democratici, il Premier andrà per rivendicare di nuovo la sua azione di governo, chiedendo che il PD viva da protagonista la partecipazione all'esecutivo invece di subirla e di cercare di smarcarsene. E la polemica contro i fighetti che ha trovato sponda nel segretario Guglielmo Pifani, quelli che stanno verso l'uscio non vanno bene. Ma è probabile che oggi le sofferenze per la convivenza in maggioranza con l'avversario storico trovino più sfogo di quanto non successo mercoledì. Non prenderà parola invece Matteo Renzi per tenere fede al voto di silenzio, ma certo seguirà con attenzione il dibattito sul Congresso a partire da date e regole. E nella battaglia precongressuale per il segretario Epifani non sarà facile tenere insieme le varie posizioni. Epifani ha scartato l'ipotesi di un rinvio. Il Congresso dovrebbe cominciare ad ottobre nel timing del leader PD e concludersi a dicembre, probabilmente il 15. Per evitare sorprese i candidati Gianni Pittella e Pippo Civati con l'ormai Renziano Goffredo Bettini hanno presentato un ordine del giorno che chiede venga fissata la data del Congresso entro la prima settimana di agosto. Molto più difficile l'accordo sulle regole. Si dice regole ma invece sono nodi politici, riconosce il segretario. Risolviamo i nodi politici e poi risolviamo le regole ed è sfida non da poco. L'accordo sulle primarie, aperto con registrazione e sullo status del segretario, automaticamente candidato premier o meno, non sembra affatto a portata di mano.